10 giugno 2014 Gianni Colacione per LibriTV. Oggi nei locali ormai familiari del caffè e pasticceria Andreotti qui a Roma che ci ospita sempre per interviste e le presentazioni dei libri, siamo in compagnia di Maria Grazia Greco per parlare con lei di un libro che ha scritto, che è un titolato, matricola numero 2478, il carcere che si prende la vita con editore sensibili alle foglie. E' un libro molto particolare perché parliamo di realtà carceraria, ovviamente già dal titolo si intuisce, Maria Grazia Greco ha avuto l'esperienza, la vita l'ha portata in qualche modo a sperimentare l'insegnamento, appunto come insegnante, all'interno del carcere di Re Bibbia nel 2010. Parleremo con lei di come ha trasposto poi i risultati, questa esperienza vista proprio sulla pelle sua e nel contatto diretto con il mondo carcerario e cominciamo a parlarne per quanto riguarda la sua preparazione che lei ha provato a fare per cercare di essere ovviamente all'altezza del ruolo, essendo chiaramente un ambiente da un punto di vista come docente, chiaramente come ambientale particolare, particolarmente difficile, lei ha provato, ha cercato di prepararsi anche psicologicamente e poi si è in qualche modo impattato, come si potrebbe dire oggi, con una realtà, con una realtà che probabilmente è stata diversa da quella a cui lei si era preparata, le si è aperto un mondo, ne parliamo con l'autrice Maria Grazia Greco. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana Persone che vagano dentro Musica di Jimi Hendrix, Girasoli Persone che ci sono senza esserci Persone che ci sono state Che non fanno più parte del presente Per me che sono uscita Per me che da là sono fuggita Per me che non ho avuto la forza Non ho avuto il coraggio di rimanere in quel luogo Di guardare ogni giorno quei volti mortificati, distrutti Di ascoltare le parole di chi mi parlava E silenzi cupi di chi taceva Persone che ci sono state Persone che ci sono ancora senza esserci Ma che fanno parte della vita Della vita che vorrei per me, per te, per tutti Diversa, piena, vissuta Nell'interezza del coraggio di vivere anche dentro questa morte Quotidiana, sistematica, progettata, programmata, pianificata dal potere Polizia, manette, fermo, questura, tribunale, processo, carcere Il carcere resta sempre la fogna in cui si butta qualcosa Ed è la fogna di questa società La fogna è sempre il mezzo per dire che lì c'è la sporcizia e non fuori La vita non è uguale per tutti La legge non è uguale per tutti Buonasera Bene, io sono qui per parlare di questo mio libro Che scaturisce appunto da questa esperienza che io ho vissuto nell'anno scolastico 2009-2010 Quando ho insegnato nel carcere di Rebibbia nei reparti speciali G12, Alta Sicurezza e G9 E insegnare nei reparti speciali significa non aspettare in un'aula che i detenuti, gli alunni detenuti Vengano a seguire le lezioni, bensì entrare dentro i reparti stessi e stare praticamente in mezzo alle celle Quindi vedere proprio materialmente quelle che sono le condizioni degradanti, disumane In cui i detenuti vengono mantenuti in una istituzione di uno stato che si chiamerebbe uno stato di diritto Si chiamerebbe condizionale, ci vuole tutto Questo non è uno stato di diritto Perché nel momento in cui si nega l'umanità e la dignità alle persone affidate a un'istituzione dello stato di diritto Dobbiamo veramente fermarci a riflettere, interrogarci, cercare di comprendere E cercare naturalmente di capire e per quello che è possibile di far capire Perché poi questo discorso della realtà carceraria è qualcosa che all'esterno arriva in modo molto blando, molto deformato Ma sì, va bene, stanno in carcere, hanno la televisione, non gli manca nulla Ma veramente la condizione carceraria è qualcosa che si può capire se la si sperimenta o sulla propria pelle purtroppo O anche, come è stato il mio caso, indirettamente ma direttamente entrandoci dentro Ed avendo a che fare, parlare, guardare, confrontarsi ogni giorno con le persone che la vivono sulla loro pelle Allora, perché matricola numero 2478 il carcere che si prende la vita? Matricola numero 2478, scusami, è un numero che ho inventato io Però è una metafora per parlare della disumanizzazione del marchio di non umanità Che si dà al detenuto nel momento stesso in cui entra in carcere Gli si dà un numero Un po' mi dispiace dire questa cosa orribile Un po' come nei campi di concentramento Il carcere che si prende la vita Come si prende la vita il carcere? Il carcere si prende la vita non solo con l'ergastolo Fine pena mai Fine pena mai Io l'ho visto scritto sugli atti che ho trattato per motivi burocratici legati alla formazione delle classi Tizio è nato a Condanna Fine pena mai Fine pena mai È terribile Quindi si prende la vita il carcere non solo con il fine pena mai Ma si prende la vita anche per quelli riguardo a quelli che nel carcere ci stanno magari un mese Si prende la vita lo stesso perché il carcere si prende la vita ogni giorno Ogni giorno proprio sottoponendo le persone a trattamenti che non sono consoni al senso di umanità Persone che stanno 22 ore al giorno in cella senza fare niente Persone che hanno due ore d'aria al giorno e per le altre 22 stanno in cella come ho detto senza fare niente E facendo attorno a stare in piedi perché? Perché le celle sono anguste, sono piccole E non c'è privacy, di che stiamo parlando? Non c'è la possibilità neanche di leggere, di pensare Giusto ecco mettersi in cuffia e stonarsi di musica, giusto quello Oppure pendere dalle labbra del grande schermo di cui ogni cella è fornita Quindi io appunto sto parlando di queste cose ma avrei dovuto prima dire quello che c'era prima della conoscenza diretta di queste cose Io mi sono trovata a dover lavorare a Re Bibbia e pensavo di andare in una situazione in cui Sì sì d'accordo non è niente di carino è un carcere Però immaginavo dei detenuti che ho per voglia di conoscere, di studiare, di elevarsi culturalmente, mentalmente Oppure anche pensando a un futuro fuori della prigione una volta finita la pena Un lavoro e quindi un diploma che servisse per rifarsi una vita nuova Ecco io pensavo a questo Invece là mi sono trovata su un altro pianeta La scuola, almeno la scuola che ho sperimentato io Nel carcere di Re Bibbia, nei reparti speciali G12 Alta Sicurezza e G9 La scuola è un modo per i detenuti di scampare a un pezzo di vita presa ogni giorno A un pezzo di quelle 22 ore che non finiscono mai in cella E quindi la scuola come opportunità non tanto, sì certo anche quello, ma quello è secondario La cosa principale è essere fuori della cella Fare qualcosa di diverso che stare là ad abbrudirsi E soprattutto avere contatto con chi viene da fuori Con chi ti può raccontare cosa c'è fuori Io arrivavo a scuola, a scuola, io arrivavo in carcere E puntualmente mi sentivo chiedere, il lunedì c'era uno che mi chiedeva sempre Professoressa, ieri è stata a teatro, cosa hai visto, com'era, racconti, racconti E quindi ecco che io mi ritrovavo, sì, con tutta la mia programmazione Molto impegnata, calibrata per i detenuti Ma poi alla fine questa programmazione è saltata e doveva saltare Perché la cosa importante non era tanto insegnargli Manzoni, insegnargli Leopardi Lo dico pure nel libro, con tutto il rispetto, per carità, per Manzoni, per Leopardi Ma la cosa importante era, era, è parlare con loro, stare con loro Fargli sentire quello che non dovrebbe esserci bisogno di fargli sentire Che sono persone, che non sono numeri, matricola 24, 7, 8, quello che ci pare Che stanno lì a farsi prendere la vita ogni giorno senza un motivo, senza una ragione Senza uno scopo, senza un costrutto È soltanto una vendetta E a che serve la vendetta? La vendetta, semmai, inasprisce qualcosa che è già molto comprensibilmente Molto duro e molto doloroso Crea dolore su dolore E quindi non dà certo l'opportunità a queste persone Di prendere coscienza anche di ciò che hanno fatto Mettersi in discussione, capire, prendere consapevolezza E proiettarsi ad essere diversi Ad essere, a superare quella fase in cui appunto la vita li ha portati a delinquere e a stare in carcere Superare questo E quindi non voglio usare la parola antipatica a riscattarsi No, ridiventare persone, prendere la loro consapevolezza Dell'essere persone a pieno titolo Bene, grazie Tu hai parlato appunto di questa tua aspettativa In qualche modo di ciò che tu pensavi di trovare E di ciò che poi effettivamente hai trovato Hai avuto contatto ovviamente Questo, diciamo, frangente anche traumatico per quanto riguarda la tua vita Io penso anche personale, oltre che professionale Hai avuto contatto anche con quella che è la comunità penitenziaria ampiamente intesa Quindi personale della polizia penitenziaria Presumo anche altri educatori, psicologi In qualche modo che cercano di dare un senso Un senso che è poi quello che nella Costituzione è l'unico senso esplicitato Cioè quello del recupero della pena Perché nella nostra Costituzione non è assolutamente esplicitato Il, diciamo, il fine affettivo, vendicativo della pena Ma è esplicitato il fine del recupero Ecco, quale di queste persone Che fanno parte, in senso molto ampio, della comunità penitenziaria Tu hai trovato un po' più di umanità Un po' più di vicinanza, di partecipazione E di consapevolezza che il carcere, appunto, secondo la nostra legge Dovrebbe recuperare le persone Mi fai una domanda da 100 milioni di euro Perché? Perché io, lavorando nei reparti speciali Di fatto non ero a contatto con nessun altro Che non i miei colleghi dei reparti speciali Quindi io ogni giorno andavo là, entravo Superavo tutta una serie infinita di sbarramenti Firme, controlli, cosa porta Quante volte firmavi? Dieci volte Dieci volte Dieci volte praticamente firmavo entrando dall'ingresso principale Poi firmavo entrando nel reparto G12 Poi firmavo entrando nel braccio Dove c'era lo spazio adibito ad aula Poi firmavo uscendo dal braccio Rifirmavo uscendo dal G12 E poi facevo chilometri, chilometri, chilometri di corridoi Andavo dall'altra parte E firmavo l'ingresso al reparto G9 Firmavo l'ingresso al braccio del G9 Dove appunto c'era lo spazio adibito alla scuola E firmavo l'uscita dal braccio L'uscita dal reparto E poi alla fine, in cellà, firmavo l'uscita dal carcere E riprendevo nell'armadietto metallico posto fuori I miei effetti personali Perché in carcere naturalmente non fanno entrare nessuno Con i propri effetti personali Neanche la borsa E quindi dove ho trovato l'umanità? Intanto i contatti con gli altri operatori Erano circoscritti assolutamente ai miei colleghi di corso Quelli con cui mi incrociavo Entrando e uscendo da questi spazi adibiti ad aule Nei bracci Mai visto uno psicologo Mai vista una psicologa Mai visto nessuno Perché veramente noi che eravamo Fra virgolette condannati Ai reparti speciali E in un certo senso Per carità In modo In modo Minimale Però in un certo senso Avevamo La stessa sorte di quelli che ci stavano dentro Cioè l'isolamento Totale, assoluto Rispetto al resto della realtà anche dell'istituzione carceraria Io non ho mai visto nessuno Tranne ecco naturalmente Gli sceriffi Gli sceriffi che Lo dico con molta amarezza E non Tranne rarissime eccezioni Non avevano neanche un atteggiamento Cortese Nei confronti dei docenti Non che ci prendessero a parolacce Ci mancherebbe Però Però si capiva molto bene Che Se non ci fossimo stati Là Sarebbe stato molto meglio per tutti Perché tanto Che ci venite a fare qua Che devono imparare questi Mi è stato detto Non si meritano niente Mi è stato detto Sono peggio degli animali Purtroppo Mi è stato detto questo Perché da Non voglio dire Che tutte le guardie carcerarie Siano così Però Diciamo C'è anche questo C'è anche questo E soprattutto Come ho detto poc'anzi Si avverte questa Questa distanza Questa distanza Veramente Voluta Tra l'istituzione E chi All'istituzione È estraneo Chi all'istituzione Può anche dare Un po' fastidio Certo Si tratta sempre Di un testimone Che poi esce E può raccontare Come hai fatto tu In questo libro Matricola 2478 Il carcere che si prende la vita E Volevo Anche chiederti Riguardo alla forma Di questo libro Abbiamo un po' parlato prima L'impatto Traumatico Tra un pochino L'aspettativa E La realtà Che hai vissuto Che stava lì Davanti a te Davanti ai tuoi occhi Sono stati forse Anche questa ispirazione Del modo In cui tu hai scritto Questo libro Che è molto particolare Non è una narrazione Non è una prosa Ecco Un pochino Tu mi hai detto Che hai evitato Di filtrarlo E renderlo Troppo Magari Semplificato Insomma Le hai tirate fuori Queste tue Impressioni Queste due esperienze Forse anche un po' Questi tuoi traumi Senza rifinirli troppo Ecco Senza renderli Troppo gradevoli Dico bene? Ma Renderli troppo gradevoli Diciamo che Per Sì In effetti Io sono stata Molto Molto toccata Molto segnata Da questa esperienza E Proprio perché Appunto Se avessi saputo Se avessi immaginato Ma Non Immaginando minimamente Certo E' stata Traumatica Senza dubbio E Poi ecco Anche le persone Che io Ho conosciuto Per carità Non voglio fare la retorica Di idealizzare Il povero carcerato Assolutamente Però Diciamo Le persone Molte delle persone Che ho conosciuto Là dentro Mi hanno lasciato Un segno Anche da un punto Di vista Proprio Personale Nel senso Che con loro Si è creato Un rapporto Un rapporto Che è stato Un rapporto Umano Sono persone Che io Non dimentico Non ho dimenticato Non dimenticherò Senza dubbio E allora Come raccontare Queste cose Intanto La mia volontà Non era tanto Di raccontare Una mia esperienza Assolutamente La mia volontà Era Dare un contributo Anche minimo A che si sappia Che in un paese Che si definisce Civile In un paese Democratico Così si definisce In uno stato Di diritto Esistono queste cose E queste cose Bisogna denunciarle Quindi Questo mio Testo Vuole essere Prima di tutto Una denuncia Una denuncia Una denuncia Dettata proprio Dall'impegno civile Dallo spirito civile Di persona E di cittadina E questa è una cosa E insieme a questo Si sposa Naturalmente Il fatto Che non si possa Secondo me Fare un'operazione Del genere Scrivendo Un bel diario Allora Io andavo lì E questo giorno Notizio mi ha detto questo Caio mi ha raccontato La sua vita Abbiamo fatto Una lezione Bellissima Su La questione Meridionale Non è questo Io Diciamo Non ho voluto È venuto così E Non ho tanto Espresso I miei Stati d'animo Ho voluto Cercare di tradurre Per quello che era possibile Le situazioni Personali Interiori Gli stati d'animo Delle persone Che io ho conosciuto E che subivano Questa Questa situazione E naturalmente È logico Per raccontare Per esprimere questo Non mi sono potuta Tenere fuori Alla verga Il narratore Impersonale No Assolutamente Mi sono messa in gioco Anch'io E quindi Chi legge questo libro Si rende conto Che questo libro Al 99,99% È denuncia È volontà di Rendere nota Una situazione E quell'altro 0,0000 Però ci sono io A 360 gradi Tu pensi che Se le persone Il carcere Dove tu sei stata Che Re Bibbia Fosse stato popolato Dalla metà Dei detenuti Ecco Automaticamente Sarebbe stata migliore La situazione Nel senso Sarebbe stato Possibile Realizzare Quel dettato costituzionale Con cui abbiamo aperto Quest'intervista Ma senza dubbio Senza dubbio Il prezzo Che viene pagato Proprio alle condizioni Alle condizioni Materiali È un prezzo Altissimo Perché Come accennavo Prima Intanto Celle pensate Per tre persone Che poi invece Ne ospitano Sei Sette Non possiamo Renderci conto Dell'orrore Di celle Praticamente Occupate Per tre quarti Da letti a castello Con un piccolo Corridoio In mezzo E le sei persone Che occupano Questi spazi Occupano I loro letti a castello Per tutto il giorno Perché non è che Dentro una cella Configurata in questo modo Si possa stare in piedi Si possa Che ne so Avere un tavolo Leggere Scrivere Dipingere È tutto È tutto Completamente Snaturato E disumanizzato Quindi è logico Che Se anziché Tutte le persone Che Le carceri Non dico Rebibbia Scusami Non dico Rebibbia Logicamente Questo dettato Costituzionale Potrebbe essere Non dico attuato Ma insomma Si potrebbe vedere Un filo di luce E il problema È un altro È che Sì Gli spazi Le condizioni Di vita Ma anche Il personale Giusto Cioè Non si possono Mettere Di fianco Non di fianco Al di sopra Perché Le guardie carcerarie Hanno una Funzione Egemonica Rispetto Alla subalternità Dei detenuti Quindi non si possono Mettere A Diciamo così Coordinare Ordinare Questi spazi Già Ecco Ammettiamo Che fossero Spazi giusti Ma Ci dovrebbe essere Una formazione Differente Del personale Cioè Non si possono Mettere Nei reparti Persone Che Non hanno Istruzione Non hanno Preparazione E non hanno Il senso Della professione Non voglio dire Il lavoro Dico la professione Non hanno Deontologia Professionale Non possono Averla La maggior parte Di queste guardie Almeno quelle Che ho conosciuto Io Nei reparti Speciali G9 E G12 Alta sicurezza Sono persone Di Estrazione Sociale Si capisce Molto Molto Modesta E di Istruzione Ancora Più Modesta Non è che Voglia fare Un discorso Classista Ci mancherebbe Altro Però Diciamo Non si possono Mettere Persone Qualsiasi In situazioni Come sono quelle Carcerarie Che sono Estremamente Dolorose La privazione Della libertà È il dolore Più grande Estremamente dolorose Estremamente Difficili Estremamente Delicate Ci vorrebbero Persone Con una formazione Adeguata Con una formazione Funzionale A far sì Che questo Sacro Articolo 27 Di questa Carta Sacra Che è la Costituzione Della Repubblica Italiana Potesse essere Attuato Le pene Non possono Consistere In trattamenti Contrari Al senso Di umanità E devono Tendere Alla rieducazione Del condannato Chi rieduca Chi Allora Leggo La fine Posso leggere La fine Proprio perché Non è un romanzo Solitamente L'autore Rimane L'autore Sempre Tirchio Quando si tratta Di dire Come finisce Quello che è scritto Non finisce Diciamo che Quello che io ho scritto Finisce Con Con una Speranza D'inizio Con una Speranza D'inizio Allora Mi figuro Mi figuro Il momento In cui Un ragazzo Un giovane Di una di queste Di questi mostri Urbanistici Che abbiamo Nelle nostre città Penso a Scampia Penso allo Zen Ma senza andare in Sicilia Penso Tranquillamente A Corviale A Vergogna Penso ecco Al prelevamento Di uno di questi Delinquentelli Piccoli spacciatori E marginati E il prelevamento Dalla casa Casa si fa per dire Occupata A Corviale E quindi La scena La scena La scena La scena Della traduzione In carcere Di Francesco Ma perché Francesco Come gridavi Anna Come gridavi Anna mia Malferma Traballante Tremolante Dietro quella Camionetta Che si allontanava Sempre più da te Che correvi Che si allontanava Sempre di più Dal vano avanzare In calzare Delle gambe magre Dalla tensione spasmodica Dei muscoli tesi Dalla vana torsione Delle braccia Dai capelli spettinati Arruffati Disperati Come lo sguardo Degli occhi sbarrati Senza luce Né speranza Come la voce muta Della bocca aperta A gridare il mio nome Il nome amato Ma senza La smitragliata nazista Capelli sparsi All'aria fredda E buia Di un giorno Non ancora iniziato Di un giorno Che non doveva iniziare Perché era il giorno Che iniziava la fine Francesco Che ti portavano via Che non avresti più rivisto L'uomo inghiottito Nel girone Dell'inferno Fatto da uomini Per altri uomini L'uomo che non sarebbe Più stato Francesco Francesco Che amavi A quell'inferno Condotto sotto i tuoi occhi A toni di sgomenti Impotenti Dili a poco Da quell'inferno Inghiattito Cancellato Annullato Marchiato Come deportato Come animale sacrificale Vittima designata Del modello sociale Frutto della mutazione Antropologica Del genocidio culturale Matricola numero 2478 E sotto per firma Cinque dita di inchiostro Firma nera Per dire la nuova identità Firma nera Per negare identità Di persona Per negare identità La persona che ero Ma prima Cinque dita di inchiostro Di chi non ha Di chi non deve Più avere identità Matricola numero 2478 Detenuto Carcerato Snaturato Recluso Se questo è un uomo Non più Francesco Non più No Non sono io Non sono questo Il processo Della spersonalizzazione Pianificata Dall'istituzione È già iniziata È già iniziato È già in atto Ma che almeno qualcosa Di me si possa salvare Per me stesso Per Anna mia Per quando sarà Maria Grazia Greco Matricola numero 2478 Il carcere che si prende la vita Sensibili alle foglie Grazie Grazie